Pina va in biblioteca. A Pina piace molto andare in biblioteca. Cosa c'è di meglio che perdersi tra le pagine di un libro in un luogo silenzioso? Pina sa già cosa cercare. Vuole un libro sui pesci. Nello scaffale trova un libro con le alette sugli uccelli, ma niente sui pesci. Più in là è attratta da un libro di un verde luccicante sulle tartarughe. Ed ha un volume con tanti disegni sulle tigri. Ma non trova un libro sui pesci. Pazienza! In biblioteca si possono fare tante altre cose interessanti. Non ci si annoia mai! Si può usare il computer, ascoltare la musica con le cuffie, fotocopiare le illustrazioni, guardare i pesci nell'acquario. L'acquario! Ecco dove può essere il libro sui pesci. Pina si siede in un angolo tutta intenta a sfogliare il suo libro. Ma dopo qualche minuto la raggiungono Pio Pio e Lillo. Scoppiano a ridere perché Pio Pio fa le facce buffe. Poi si sente anche il richiamo di Tino. È l'ora della storia! Oggi tocca a Tullio leggere ad alta voce. Prende la sedia e si sistema proprio dove è seduta Pina. La storia che vi racconto la conoscete già. Comincia così. Nella vecchia fattoria... Ia ia o! Rispondono in coro i cinque amici. Quante bestie a zio Tobia! Ia ia o! Che confusione! Nessuno ascolta Pio Tullio e tutti insieme si mettono a fare i versi degli animali. Beh, 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 miau! Ia o! Ia o! Tra l'allegria generale gli amici salutano il bibliotecario, prendono i libri in prestito ed escono in giardino per giocare un po'. Giochiamo alla vecchia fattoria? Io faccio lo zio Tobia, dice Lillo. E io faccio il cane. Bau, 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 abbaia Cocconilo. Pio Pio invece miagola e Tino nitrisce. Ma Pina dov'è? Mentre gli amici giocano e si divertono, Pina, seduta sotto un albero, può finalmente leggere il libro sui pesci. Fine Mentre gli amici giocano e si divertono il libro sui pesci.